I numeri sono quelli di una continua battaglia, i numeri crescono, oggi crescono quasi tutti in maniera inferiore rispetto a ieri. Abbiamo 17.713 positivi con una crescita di 1.493 che è inferiore a ieri che era stato di 1.971, quindi questo è sicuramente un dato che ci conforta. Il dato degli ospedalizzati è di 7.285 più 332, ieri era più 782, quindi anche questo è un dato che è positivo. Il dato delle persone in terapia intensiva è 924 più 45, ieri era più 56, quindi anche questo è un elemento che noi raccogliamo con soddisfazione. Il numero dei decessi continua invece a crescere in maniera importante, siamo arrivati a 1.959 con una crescita di più di 300 rispetto a ieri. Il dato provinciale anche qui vede nelle province più in crisi di questi mesi un dato di riduzione, quindi questo è un aspetto significativamente positivo. Bergamo è arrivato a 4.305 più 312, quindi è in riduzione rispetto al dato di ieri. Il dato di Brescia è 3.785 che ha una differenza di 484, Com 286 con un minimo incremento rispetto a ieri. Cremona 2.167, Lodi 1.445 con solo 27 casi in più oggi, quindi vedete che la grande azione che abbiamo compiuto su quell'area sta dando. Ogni giorno c'è una conferma della bontà e della giustezza della strategia che abbiamo adottato. Milano 2.644 con una crescita che è di 318, quindi una crescita su Milano che è comunque significativa. Certo, rispetto complessivamente al numero della popolazione di Milano e provincia non è altissimo, però è un dato che deve portare tutti i milanesi ad una maggiore responsabilizzazione.